Per me era la cosa più bella che ci fosse, stare in chiesa, cantare i vespri, lodare il Signore. Io crescendo ho cominciato a avere il desiderio di voler dare la mia vita al Signore, di servire i poveri. Il motivo per cui io sono entrata in comunità è stato proprio perché così avrei amato più il Signore. Quando una ragazza entra in un ordine religioso in genere è come quando una ragazza si fidanza, vede tutto una meraviglia. Poi ti rendi conto magari che certe cose non rispecchiano proprio quello che si dovrebbe fare. E cominciavo ad andare in crisi. Che avevo vissuto tanto tempo non concludendo niente. Lasciando le suore mi sembrava di averle tutte tradite. Mi prese l'angoscia. Il Signore qualche volta ha per te una strada diversa da farti intraprendere. E si serve anche delle cose peggiori per farti fare il cammino che Lui vuole da te. Grazie. 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 Grazie.